A Campli, in Abruzzo, si narra la leggenda del vitello d'oro, che narra di un castello privo di acqua, dove viveva un barone circondato dalle sue sette figlie, che ogni giorno, poiché il castello era sprovvisto d'acqua, dovevano recarsi al fiume. Fu così che, per evitare alle fanciulle la fatica, il barone decise di dotare il maniero di una grande camera che fungesse da cisterna. Durante gli scavi per eseguire il manufatto, la leggenda narra di un prezioso ritrovamento, un vitello dalle corna d'oro. A seguito di questo rinvenimento e per la comodità della presenza di acque, gli abitanti del luogo cominciarono a costruire le loro abitazioni, tutti intorno al castello. Perfino una sorella del barone, andata in sposa nel casato dei Limancini, ai quali apparteneva il patronato della primitiva chiesa di San Liberatore, vi si trasferì con la sua famiglia. Nacque da questa leggenda la frazione Limancini, poi diventata Villa Camera, nome attuale della frazione di Campli.